Ah, chissà quel povero Fairy Fox Cioè, ragazzino, mi mancherà Ci mancherà, effettivamente, nonostante fosse abbastanza strambo, iniziamo ad affezionarmi c'è anch'io Comunque, siamo arrivati a Tetlas, signori Oh mio Dio, è vero, guarda, lì c'è anche un idrovolante a mezz'aria Oh mio Dio, è grandissimo Cioè, Ragni gli fa un baffo a Tetlas, veramente Oh mio Dio, è questa, la Klessidra, la Klessidra di sabbia di Tetlas Ho letto che questa Klessidra è perfettamente sincronizzata tramite uno strano sortileggio che magari Fango conoscerà Con quella di un'altra città che le lega, tipo, indissolubilmente Io sono sopra la Klessidra Come sei sopra la Klessidra? Dov'è Spence? Scendi giù che se poi cade ti fa male la caviglia Scenda che si fa male Arrivo Madonna che salto Sto piovendo Con quale leggiadria scende, signor Spence? Mamma mia Ehi, poi, giovanotti, giovanotti Sì, sì, signora, signora, la crona Siete nuovi in città? Sì, signora, noi siamo appena arrivati Guarda che siamo delle facce nuove Si riconoscono subito i forestieri, immagino, in questa città negli ultimi tempi Eh, sì, però nessuno vi ha voluto aiutare Volete guadagnarvi un bel paio di scarpini di quelle sexy, bellissime, a chiappa fighe? Sì, 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 sì Spence, l'hipster subito Adesso, io sinceramente non è che ne ho particolarmente bisogno Però, ci dica, ci narri, signora, la crona Praticamente, miei baldigiovani Sto facendo una ricerca con alcuni fiori Che però nascono in un luogo molto, molto particolare La Time Valley, la valle del tempo Dove le leggende narrano che il tempo sia fermo Ci sia il tempo eterno Lei, Fangone, sa qualcosa? La Time Valley era un'area demoniaca Raccontavano gli scritti del mio monastero, me ne ricordo Però non era un luogo molto consigliato Ho capito In senso che ci fosse il mare, lo scuro Lo scuro vivesse lì Ho capito Quindi, signora la crona, che cosa dovremmo fare? Dovete andare dal mio assistente che si trova lì Che sta eseguendo alcune ricerche E prendere degli Erolia Flowers Con la quale potrò forgiare i vostri scarpini Che ovviamente vi darò a gratis A differenza degli altri a cui li vendo, ovviamente E vai! Ok, dai, visto che a Spence piacciono tanto Diciamo che ci adattiamo alle mode del momento Non vogliamo mica fare i barboni qui in giro per la città Cioè, se becchiamo specialmente Spence Che si va a fare le quarantenni vorrebbe avere un certo look Eh, un certo stile Dove dobbiamo andare, signora la crona? Dovete dirigervi verso la foresta che avete appena sorpassato Immagino veniate dalla città di Ragni Esattamente Dovete dirigervi verso la città di Ragni Eh, dobbiamo andare a passare lì Però, da lì dovete dirigervi verso... A nord, dobbiamo andare a nord Ok, perfetto, signora la crona Non possiamo sbagliarci Se seguiamo le sue indicazioni, giusto? Sì, sì, non preoccupate Io vi aspetterò qui Ok, quindi Anche oggi, a prima mattina Abbiamo già trovato che fare Tutto facciamo Forché salvare le città dagli zombie E simili Comunque, vabbè Sì, in effetti Sembra che questa invasione zombie Non sia poi così problematica Come narravano nella lettera di richiesta d'aiuto Però, vabbè E il nord è verso dove è il mare Quindi la sotto è Avete ragione Quindi a sinistra Ho detto una cagata io Bravi, bravi Una cagata di mia Mi fa piacere che siete molto attenti E state prendendo confidenza anche voi Con questo regno magnificente E se guardiamo lì Queste torri distrutte Oh mio Dio E vedo anche degli spuntoni di... Di Ossidiana Che caspiterina È l'oscuro È il male Ecco, è proprio come diceva il signor Fango Signor Spencer Sì Ho appena detto che lei sapeva Dove doveva andare Invece Eh? Forse siete di voi che non conoscete le scorciatoie Come le conosco io Ho i miei dubbi, Spence Che lei conosca le scorciatoie Vabbè, la aspettiamo lì Allora Nel dubbio esatto Ci incontriamo lì, guardi A proposito Signor Fango Come mai lei ha queste tipo Pitture tribali sul volto? Cioè, cosa rappresentano? Ah, mi sono sporcato Non ho guardato avanti Ah, semplicemente non si lava Tipo vodo di castità con l'acqua Qualcosa del genere Esatto, esatto Proprio come il signor Ferryfox Nooo Era sempre sporco Poco ma è sicuro Ma Ferryfox il volto di castità non lo aveva Cosa? Oh mio Dio E questa struttura enorme Che caspiterina è? Che accepiterina Io sono Adelkurn Adelkurn? Eh, ha sbagliato completamente Fortuna No, io sono una scorciatoia Qui tutti sapevano dov'era Ma nessuno ha capito un cazzo Alla fine Oh, finalmente siamo riusciti da questa foresta orribile L'abbiamo aggirata senza così incontrare quei ragni incredibilmente bruttissimi E dovrebbe essere qui la Time Valley Dovremmo essere praticamente arrivati O almeno così si dice Magari noteremo qualche anomalia temporale Eh, qui le rovine incredibili Madonna Chissà che cosa hanno affrontato tutte queste zone in decadimento completo qui nella Time Valley E quella C'è un'unica casa con del fumo che esce e delle luci Penso che Sarà lì l'assistente della signora Lacrona Anche se io non capisco come faccia Cioè un povero Cristo lasciato qui da solo abbandonato in mezzo a nulla Però per la scienza questo ed altro mi sembra giusto Almeno non invece Oh, signora Asher Ma salve Oh, non vi ho mai visti da queste parti piccoli visitatori Ma sì, siamo venuti perché la signora Lacrona Che dovrebbe essere la sua La sua tipo Come si chiama? Maestra assistente pro Non lo so come definirla Ci ha mandati qui perché ci ha detto di prendere dei fiori di Lacrona Che le servono per continuare le ricerche nella città di Detras Ah, dovete stare attenti Quest'area ha un sacco di misteri non ancora risolti Per esempio Sembra che tutto sia come rallentato Io non ho notato niente, sinceramente Cioè non mi sembra così Cioè Spencer è rallentato come al solito Però quello è normale Fuori dalla Time Valley era rallentato Purtroppo Oh, non ne è rimasta nemmeno una Ma no E adesso come facciamo? Dovremmo andare a prendere i fiori nella Ah, dobbiamo andargli a prendere direttamente nella caverna Ok, ok Che dovrebbe trovarsi qui vicino Dove siamo passati nel costone enorme Dove abbiamo visto Qui intravisto le rovine Non era da questa? Oh, da questa? No, da come ci ha detto il signor Ashes Dovrebbe essere qui E' sicuro? Sì, credo di sì Almeno dalle indicazioni che ci ha dato il tipo Forse è questa l'entrata Eh, appunto Qui ci ha condotto il signor Ashes Ok, tutto a posto No, bro Ho trovato la caverna Sono bravo Ho trovato la caverna? Lei è un genio, signor Spencer La Time Valley ha rallentato ancora di più le sue capacità psichiche Mi fa piacere Eccolo di fiori Ecco i fiori Credo siano questi Oh mio Dio i fiori Eccoli, sì Sono praticamente quelli della descrizione Oh mio Dio 35 Ma non erano rari Ce ne ha chiesti un pochetto Sono rari solo perché spugnano in questa caverna evidentemente Signor Ashes Signor Ashes Eccoci qui Le abbiamo portato tonnellate di Erolia Flowers Adesso dovrebbe poterli raffinare o preparare per portarli appunto dalla signora alla crona Non dovrebbe essere un lavoretto difficile, giusto? Oh, perfetto Stato per fare addirittura delle nuove scoperte Magari ci terremo aggiornati in futuro Lei ha Twitter? Ah no? Non ha Twitter Eh vabbè, allora vedremo magari poi Ci risentiamo Poi ci risentiamo Ci risentiamo, esatto Utilizziamo Un lumacofono Qualcosa Lo troveremo Comunque, grazie tante Signor Ashes È stato molto gentile Ci vediamo Non vedo l'ora di vedere quali scarpini ci prepara da quella signora alla crona Ma è un villaggio Ha un giovane Delle casette sull'albero E ci sono dei funghi assassini per terra Ma che caspita di foresta è questa? No, no, non ci toccano i funghi Che? Oh, i villager Inivla villager Ciao Quindi esiste un villaggio all'interno della foresta dei ragni Interessante La cosa era oscura Dovrò riportarla E qui addirittura vendono Vendono degli accessori Dei braccialetti Ragazzi, direi che è il caso di fare un po' di shopping a questo punto Potevamo regalarlo al povero Perfo Sarebbe stato felicissimo Sarebbe stato carinissimo Ciotole? Cioè, c'è il mercante di ciotole? Non lo so Andiamola a scoprire Qui è tutto interessantissimo da scoprire Quello è il bello di questa regione Ma tu ti fai un negozio di ciotole E fai le scale così Che non riesco a sapire Perché evidentemente queste sono delle ciotole della proezza Capito? Delle ciotole che solo i veri pro parkourer possono Possono attingere Uno smeraldo Ciotole? Ciotole? Ok Magari qualcuno di voi sa il cucinare? Lei? Allora possiamo raccogliere anche un po' di funghi qui in giro Sì, andiamo a togliere dei funghi Facciamo un po' di funghi Non so, ma ho l'impressione che ci siamo persi all'interno della foresta Non mi sembra di trovare punti di riferimento rispetto a quando siamo arrivati Basta chiedere che questi raggi lo schifo Oh, lì c'è un signore Chiediamo informazioni Scusate, ma voi riconoscete Se io non capisco se i nomi al femminile sono per villager film Non ho mai capito la sessualità di questi esseri Non chiedere Non essere maledico Ok, non diciamo niente Salve, gentilmente Lei che vive qui nella foresta fungosa piena di ragni E sinceramente che posto di merda per vivere Anche se qui c'è un laghetto carinissimo Ci saprebbe dire come possiamo tornare a Deadlass Abbiamo da fare, abbiamo un sacco da fare E degli scarpini molto fashion che ci aspettano Oh, salve Se... ma ci dice... Cioè, non gliene frega un cazzo proprio Cioè, vuole... vuole dei funghi Perché dice... Perché dice che lui è l'uomo fungo The Mushroom Man Che co... Ah, ne vuole ancora un altro Cioè, non solo ho preso gli altri funghi da Tefango Ne vuole ancora anche da me Sì, signori Aya Ha finito? Ha finito adesso? Addirittura vuole una ciotola Cioè, porco il cazzo Cioè, in casa tua qui vuoi una ciotola Seriamente? Seriamente Ford'ora che l'abbiamo comprata Mamma mia Esatto Ma adesso noi... è la nostra zuppa E ci la faremo insieme agli Aya Ah, ho capito Adesso, signori Aya, ci può... Anzi, effettivamente, visto che le abbiamo dato le nostre tre ciotole Gentilmente ci offre almeno questo pranzo Questo rifocillo dalla nostra... dal nostro viaggio Finalmente siamo riusciti ad uscire da quella dannata foresta Madonna cara, oh Sopra voglio le mie scarpe Signora Lacrona, dopo tutte le smadonnate Lei non ci ha detto che avremmo dovuto affrontare tutto questo A saperlo non l'avremmo rifatto Comunque ci faccia vedere questi scarpini fashion Spero per lei che il gioco valga la candela Oh, grazie tanti ragazzi Non so proprio come ho rifatto senza di voi Ecco qui Ma sono rosa Guarda, cioè, signor Fango Non nota come adesso ha un certo stile? La chiesa sa cosa ne pensa Sulle persone che vestono di rosa Ma lo dice Gesù Quando camminò sulle acque Tolditi quello proprio di camicia rosa Che fa schifo